Non chiedo fuoco, diceva. È una maticcia, insomma che una penna, una macchina. Chiedo fuoco. Adesso, osservate, attenzione. Tutta la punta, tutta la punta della macchina. Verrà. Adesso, sentite anche voi. Questa, è venuto su. Posso fare ancora una cosa? Si chiama attraverso la materia. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.